Ci stiamo affrestando alla fusione delle due campane destinate in Iraq. Oggi abbiamo anche la benedizione di Dio con il padre Armando, la mina che è venuto appositamente per aiutarci ad andare avanti in questa fusione. Adesso il padre Armando benedirà il bronzo, il bronzo che adesso è inanimato, però prenderà forma nella campana durante la fusione. Speriamo adesso che un messaggio di gioia e di pace queste campane abbiano questa forza a questi popoli. Santa Maria Grazie a tutti. Grazie a tutti.